Flores Multimedia, Mauro Ciutini, ultimo aggiornamento di oggi, code sulla Firenze-Pisa-Livorno, lo svincolo di lastra a signa non riceve in uscita in direzione da Firenze. Un controllo di velocità tra Pistoia e Monte Catini, siamo in A11, la direzione è quella per Pisa. Segnalati i problemi all'area di servizio Lucignano, siamo in A1, la direzione è quella per Firenze. Ancora traffico intenso sui viali di Firenze, via Guido Monaco, via Le Redi, via Le Milton, via Le Belfiore, via Le Strozi, via Le Fratelli Rosselli. Lavori per la tranvia a Firenze, fino al 25 di marzo di vieti di sosta e restringimenti in via Alderotti, ricordo stanotte chiusa la rotatoria Forlanini. In chiusura per chi viaggia domani in Toscana, cielo poco nuvoloso parzialmente per nube in prevalenza a stratiformi, addensamenti più consistenti sui rilievi. È tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buona serata. Grazie a tutti.